Uno degli accessori più richiesti sulle vetture Fiat è il Viva Voce Bluetooth che è utilissimo per poter rispondere al cellulare mentre uno guida senza dover levare le mani dal volante. Oggi vi facciamo vedere come configurare il vostro iPhone con il Bluetooth di Fiat. Intanto premiamo il tastino del Viva Voce. Ripetere, prego. Impostazioni. Impostazioni. I comandi disponibili sono dati utente, registra utente o annulla. Registra utente. Registrazione utente in corso. Il PIN è 3351. Per registrarsi, cercare con il proprio dispositivo il sistema BWM e inserire il codice PIN visualizzato. Perfetto, la voce guida ci ha detto già tutto. Noi prendiamo il nostro iPhone e andiamo su le impostazioni. e mettiamo il Bluetooth. Facciamo la ricerca. Attiviamo intanto il Bluetooth. E facciamo la ricerca. Troviamo BlueM. Ci clicchiamo sopra. e mettiamo il PIN che la vettura ci ha dato. 3351. Una volta inserito, lo abbiniamo e siamo connessi alla vettura. Quindi, connessione in corso. Eccoci qua. Molto facile, però in questa maniera evitiamo di dover tolcare il cellulare Benvenuto. Per rispondere al telefono. Per utilizzare la rubrica è necessario copiare i contatti sulla vettura. Continuare. Possiamo decidere se copiare i contatti oppure no. Prego. No, non copiare i contatti. La rubrica non verrà copiata. Per copiarla, spostarsi sul menu impostazioni e selezionare dati utente. Ecco qua. Così possiamo guidare in completa sicurezza. Grazie.